Qualche invidioso pensa che in realtà è stato un caso e invece dimostreremo che non è stata un'eccezione ma diventerà la regola, di questo ne sono assolutamente convinto. Io volevo anche fare un applauso al Presidente federale che è qui in sala, Stefano Mei, che si alza magari... Quello non è alzarsi.